Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12 dove ci sono due chilometri di coda per il traffico intenso tra Versilia e la dilamazione Lucca-Viareggio in direzione Rosignano. Sulla statale 1 Aurelia chiusura di una corsia per l'illuminazione del tunnel Guasta tra Follonica Nord e Follonica Est in direzione Sud. Sulla strada provinciale 34 di Rosano al chilometro 7500 in località Vallina nel comune di Bagno a Ripoli, senso unico alternato e lavori che dureranno fino al 23 marzo. Per i treni sulla relazione Firenze-Arezzo permane attivo il servizio con bus sostitutivo nella tratta Ponticino-Arezzo. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!